Ciao amici da Simona Vignali, in questa serie di video vi ho promesso che vi avrei fatto vedere come ringiovanire di 10 anni in pochi mesi, senza buttare soldi in creme inutili o in chirurgia estetica invasiva, ma con un metodo naturale al 100% che più passa il tempo e più il tuo viso diventa fresco, liscio e tonico, così possiamo di nuovo sentirci soddisfatti del nostro aspetto e sicuri di noi stessi. L'argomento è di gran tendenza, infatti ho ricevuto moltissime domande e volete sapere qual è stata la più ricorrente? Ma questo metodo funziona anche per un viso disastrato come il mio? La risposta è sicuramente sì, la buona notizia è che dopo averci lavorato per anni, dopo aver investito tantissimo tempo e anche soldi in seminari e corsi per poter sperimentare le migliori strategie a livello mondiale, siccome in moltissimi mi avete chiesto una soluzione, ho creato una sintesi con il distillato delle migliori tecniche di ringiovanimento naturale del viso e le ho messe in un video corso con il metodo che ha funzionato per me e per tutte le persone a cui l'ho fatto provare, qualunque età e qualunque viso. E come si chiama il metodo? Si chiama metodo viso lift, un nome, un programma. Nei tre video precedenti di questa serie sul ringiovanimento del viso ho già spiegato che dopo i 40 anni il viso inizia a cedere, anche il mio l'ho fatto, ma i segni del tempo sono reversibili con un metodo naturale. Il segreto è la tonificazione dei muscoli del viso, ma devono essere esercizi semplici che non richiedono troppo tempo o troppo impegno, altrimenti non si fanno. Bisogna usare solo strategie mirate perché gli esercizi, se non sono specifici, peggiorano la situazione e aumentano le rughe come era successo a me. Tra poco vi farò vedere una mia foto di qualche anno fa prima di fare gli esercizi di tonificazione muscolare. Rispetto a oggi sembravo mia nonna. No! Vediamo, vediamo! Vi confesso che se avessi conosciuto questo metodo prima mi sarei risparmiata tanta frustrazione e tante brutte foto, ma non c'era e ho dovuto crearlo io e l'ho fatto. Quando si parla di ringiovanire il viso è un po' per tutti la stessa cosa. Rughe sulla fronte, intorno agli occhi, occhiaie, borse e quelle grinze sulle guance che danno un aspetto avvizzito, quei brutti solchi tra il naso e la bocca e tutte quelle linee sul viso che fanno apparire stanchi e sciupati. E poi il codice a barre delle labbra e le pieghe del collo? Per non parlare di quelle orribili palpebre cascanti e il doppio mento che deforma l'ovale del viso. A un certo punto il viso diventa una specie di rettangolo con le punte che scendono verso il basso. Vi suona familiare? Come no? Il motivo per cui anche voi vi trovate in questa situazione oggi è perché tutti dicono che con il passare degli anni il collagene e l'elastina della pelle perdono di tonicità ed elasticità e bisogna usare costosissimi sieri cellulari e preziosissime creme. Ma contrariamente a quanto ci fanno credere, per farci spendere, la cosmetica che si applica sulla pelle non basta e spesso non serve. E allora cosa dobbiamo fare? C'è una cosa più importante ed è la chiave fondamentale su cui si basa il mio metodo viso lift. La pelle del viso è appoggiata sui muscoli facciali. Se sono molli perché non li alleniamo, proprio come i glutei in palestra, la pelle che li ricopre non potrà mai essere tesa. Anche se ti spalmi un vasetto di crema al giorno, anche se ti riempi di botox e di silicone, non sarà mai come avere il sostegno muscolare da sotto. Solo se i muscoli del viso sono tonici, la pelle sarà più sollevata, distesa e liscia automaticamente. Ah ma allora il segreto è la tonificazione dei muscoli? Esatto, solo quando ho fatto i giusti esercizi ho ritrovato le forme giovanili del viso e una pelle più distesa. E siccome in tantissimi mi iscrivete e mi chiedete, ma Simona come mai nei tuoi video di adesso sembri più giovane che nei video del 2010? Vogliamo sapere cosa hai fatto? Ho creato un videocorso molto prezioso che mostra esattamente quali sono gli esercizi che mi hanno fatto ringiovanire e che possono funzionare anche per voi. Ma adesso ci fai vedere come eri prima del tuo metodo viso lift? Eccola qua! La foto si commenta da sola ero più giovane ma molto peggio di oggi. Guardate anche queste persone che hanno provato il metodo viso lift, lo stanno usando e hanno gentilmente concesso di far vedere il prima e il dopo. Quando erano più giovani sembravano più vecchie, vedete? Le immagini parlano da sole, il metodo viso lift funziona non solo più di tutte le creme anti età che avete usato fino a oggi, ma anche molto di più di tutto quello che potete trovare in rete, nei video e nei libri. E perché è così speciale e diverso da tutti? Gli esercizi che trovate sul web se non sono eseguiti con la giusta tecnica possono peggiorare la situazione. Ve l'ho detto è successo anche a me all'inizio purtroppo e non voglio che succeda anche a voi. Per questo ho elaborato sette passaggi fondamentali che fanno la differenza. Non bisogna assolutamente trascurarli ma non li trovate da nessuna parte, vi assicuro li ho inseriti io nel mio videocorso. Che allena solo i muscoli necessari, con una sequenza specifica, con una tecnica precisa, con i giusti tempi di esecuzione che sono fondamentali, studiato in modo scientifico, privo di effetti collaterali e che nutre anche la consapevolezza. Come è strutturato il corso? Il videocorso è diviso in moduli e mostra la sequenza che serve a ringiovanire tutte le parti del viso e allenare i muscoli specifici. Della fronte così potete eliminare le rughe orizzontali, degli occhi per risollevare le palpebre e cancellare le rughe intorno, degli zigomi per ridare tono e volume al viso, delle guance per eliminare le grinze e ridare freschezza al volto, delle labbra per togliere il codice a barre, del mento per ridurre il doppio mento e ritrovare l'ovale del viso e anche del collo così potete cancellare le pieghe e le grinze che mostrano i segni dell'età inevitabilmente. Sono questi gli esercizi che fatti ogni giorno permettono di ringiovanire di dieci anni in pochi mesi, senza perdere tempo, in modo molto mirato e senza spendere soldi, anzi buttarli via in creme inutili. Ma con il mio metodo naturale al 100% che funziona, lo vedi tu, lo vedono gli altri e può davvero cambiarti la vita. Perché non è solo una questione di estetica esteriore, ma anche di interiorità. Vedersi meglio e ringiovaniti ci fa sentire più a nostro agio, dà fiducia, sicurezza e autostima. Ci fa vivere con più entusiasmo, ci fa venire voglia di meritare di più per noi stessi e alimenta il desiderio di mantenerci più sani e più in forma, quindi ci fa bene in tutti i sensi. È vero, mi sento già piena di speranza, anzi mi vedo già bella ringiovanita. Tutto quello che dovete fare per ottenere i risultati con il videocorso è guardare la mia faccia, seguire la mia voce e fare gli stessi esercizi. Così sarà come fare il training insieme. Così semplice? Eh sì, sapete che io non amo proprio le cose complicate, anzi io amo le soluzioni facili che funzionano subito. Anche perché io stessa non ho tanto tempo ma voglio ottenere i migliori risultati per il mio viso e farli ottenere anche a voi come sempre. Per questo ho deciso di rendere disponibile il videocorso che per me è il frutto di tanti anni di ricerca e di applicazione a un prezzo accessibile. Praticamente al costo di un siero cellulare o contorno occhi per la pelle che poi finisce subito e non funziona. Mentre il mio corso per soli 147 euro lo comprate una volta e lo potete usare sempre, anzi più lo fate e più funziona nel tempo. Se pensate a quanto costano gli interventi di chirurgia plastica il mio videocorso che ringiovanisce il viso in modo naturale e senza rischi dovrebbe costare migliaia di euro. Ma io voglio mettere questo corso nelle mani di quante più persone possibili. Credetemi a un prezzo regalato per voi rispetto a tutto quello che ho investito io negli anni e tutto il tempo che ho impiegato per metterlo a punto e prepararlo al meglio. Sì, si può fare. E non è ancora finita con le buone notizie. A tutti voi che volete invertire la clessidra del tempo e acquistate il corso farò tre regali speciali che renderanno ancora più completo il programma di ringiovanimento con l'alimentazione. Ho deciso di regalarvi tre dei miei migliori ebook più venduti sul mio sito con le mie migliori ricette dimagranti, detossinanti, antiossidanti, amiche della pelle e ai primi che acquisteranno il corso e si affideranno al metodo Visolift farò un regalo personale di ringraziamento che consiste nel mio libro dedicato alla bellezza ed estetica olistica. Ormai è introvabile perché è andato a ruba in tutte le librerie e anche su Amazon. Solo io posso farvelo avere perché sono l'autrice e lo riceverete direttamente da me. Trovate tutto sul link in descrizione. Simona vuoi rovinarti? No, sono solo felice perché da oggi anche voi potrete seguire il videocorso con il mio metodo Visolift. Ha un prezzo speciale di lancio insieme a tre bellissimi regali e un quarto dono per me preziosissimo. Voglio che la nostra comunità non sia solo trendy e sana ma anche bella dentro e fuori perché è sempre bello sentirci dire che stiamo bene e sembriamo più giovani. Adesso cliccate subito sul link qui sotto. Acquistate immediatamente il videocorso oppure leggetevi pazientemente ma con attenzione tutta la pagina e cominciate a seguire il training così otterrete presto ottimi risultati. Volete continuare a lamentarvi del vostro viso o volete fare qualcosa di sicuro e anche semplice che funzioni e cambi la situazione? Pensare a come sarebbe bello ringiovanire. Non fa ringiovanire. Non funziona. Per ringiovanire bisogna agire. Quindi agite subito per iniziare a seguire il metodo Visolift. Ma c'è una garanzia? Ma sì certo ma ho spiegato tutto nella pagina in descrizione. Non voglio fare un video troppo lungo. Andate a vedere e non perdete questa opportunità. Mi raccomando. Voglio vedervi presto positive, belle, ringiovanite amiche mie e anche amici miei. Il videocorso è per tutti. Bene allora questa volta ci vediamo nel videocorso naturalmente. Ciao!